Matteo, i match di Coppa Italia sono belli, però niente come il campionato. Si comincia subito domenica con un battesimo di fuoco in casa di una delle formazioni più accreditate del Giro del Cine. Sì, sicuramente. Non scopriamo di certo noi quello che sta facendo il Catanzaro da tre anni a questa parte. Sicuramente è una società solida, una società che vuole fare un grande campionato. È stata costruita per rambire i primi posti, quindi assolutamente sì, è un test importante. Ma come lo era importante se ci capitava a qualsiasi altra squadra del Giro del Meridionale, perché sono squadre molto forti, sono squadre ben attrezzate, sono squadre allenate bene. Quindi di conseguenza diciamo che una valeva l'altra, perché poi dopo l'inizio del campionato è sempre un pochettino bello per le emozioni che può dare qualsiasi partita che capiti. Siccome mi sembri uno dei giocatori con più carisma, ti chiedo le impressioni dopo il ritiro, dopo queste prime partite che hai della squadra, dei tuoi compagni, dell'insieme che state costruendo? Ma è detto una cosa giusta, il gruppo. Il gruppo è secondo me in questo momento qui, nell'arco di tutto il precampionato, ci stiamo volendo bene. Quindi secondo me è la cosa più importante. Quando 25 giocatori si vogliono bene, formano un gruppo, che poi dopo questo gruppo in campo formerà una squadra, perché sono due cose completamente diverse. Però secondo me, quando c'è questa grande sintonia a livello umano, credo che poi dopo in mezzo a questo terreno verde le cose diventino più facili. Quindi di conseguenza da quello che posso dire è che siamo un bel gruppo di ragazzi che si vogliono bene, che vanno tutti dritti verso un unico obiettivo, che è quello di fare bene per il Teramo, per la città, per la società e per un allenatore che ogni giorno ci sta dando tanto e che seguiamo a spada tratta. Il fattore ambientale è uno degli elementi del girone C e a Catanzaro ci sarà subito un testo importante anche sotto questo punto di vista. Sicuramente. Come ho detto prima, Catanzaro non la scopro di certo io, non la scopriamo di certo noi. Quindi di conseguenza sarà una partita con molte difficoltà. Dal primo punto di vista la squadra, che è una squadra molto forte, e dal secondo punto di vista una città che vive di calcio e che sicuramente darà un'accoglienza molto calorosa ai propri colori. Facendo un passo indietro un attimo a Gubbio, ti era mai capitato in carriera di fare un assist? Ma no, mi piace tanto giocare coi piedi, quindi di conseguenza no, non mi è mai capitato di... Sì, anzi sì, ti dico una volta, adesso me lo ricordo, a Real Vicenza, erano quasi cinque anni fa, ho avuto la fortuna e grazie a Dio ho fatto un assist all'attaccante, e poi dopo domenica, ringraziando il Signore, è successo di nuovo. Grazie a tutti.